niente ancora non ho già telefonato ora quello è il problema che se come domani io non ci sogno quindi se mi telefona come ci vuoi rispondere allora che faccio ora? piglio questa segreteria telefonica ci registro un messaggio che si da telefona praticamente registro il suo messaggio allora come si fa questo? questo è il mio giusto allora questa è la segreteria telefonica di Giociozzo lasciate un messaggio dopo il BIP BIP ora vediamo se telefona domani vi faccio sapere statevi bene ciao 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 Grazie a tutti